Buongiorno a tutti, bentornati sul canale, oggi vi portiamo a Frabosa, brava spuzzi anche tu partecipi Abbiamo un giro organizzato con il Genova fuoristrada, avremo la guida che ci scorterà sui monti tra Frabosa e Prato Nevoso E l'abbiamo già fatta l'anno scorso Però ci siamo dimenticati di fare il video Ci siamo dimenticati di fare il video l'anno scorso, ma non è vero, non li facevamo ancora Quindi niente, ora usciamo dall'autostrada Per prendere l'uscita verso Niela Tanaro E ci aggiorniamo dopo New entry, rossa Questo è il GK bianco di Luca New entry gigantesco, veramente gigantesco questo Questo è veramente gigantesco Iveco Massif Super preparato da viaggio New entry Buongiorno Presidenti Buongiorno Ciao Dani Macchine che si sprecano qui Minchia patro l'uomo Quante macchine siamo? Non so E' troppo bello Comemo da un'altra Comemo da un'altra Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Cosa c'è lì sotto che vende? Un ramo forse Stavolta è un ramo Quel ramo dell'Ama di Puglia Com'era quella società di bocce di cui parlavi? Un ramo forse 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 Loca! Un ramo forse 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 dopo una breve sosta alla balma sulle alture di prato nevoso adesso stiamo primo giorno giunge alla fine stiamo rientrando verso fravosa e niente andremo a cena niente lollo scherzava non vi preoccupate non c'è nessuno dietro danni da matte fermati un attimo Ma la sei là Ma che carino queste casette E' anche un po' queste casette Mi chiamo, mi chiamo Mi chiamo Sì, guarda Ma qua dove stiamo? Comunque non è quella che dicevamo noi Non c'è nessuno Che bello questi posti E' veramente bello qua Sì, davvero bellissimo Così che ci sia buio Ma c'è anche il che c'è sulla ruota? Mi scorda? Sono quel che sulla macchina Si Ma c'è anche il che c'è sulla ruota? E coline che bello Che bella sta salita qua Che bella sta salita qua Che bella sta salita Lo farei, guarda quella macchina non si può farà Ma la sei tu sai con l'aereo 4 ridotte? Assolutamente sì, ma dove vuole questo fango la mia? Diceva Massi Io sì Vabbè, lo esistono, dai Siamo senza gomme, c'è un po' la sua manetta Siamo nel posto stretto con via unica C'è Rubicon della guida che non riesce nemmeno a salire qua Eh, non lo so, noi siamo in coda, fermi Siamo io, Adri e il Massif per ultimi E anche il vitare è andato Oh, è lunga, eh Non capisco dove cazzo c'è girato le due Oh, è lunga Adri, te che sei fotogenico? Comenta un po' l'open bar del maestro Yoda Non è da commentare, c'è l'asso La tettigoria, se vuoi di più Siete tutti soddisfatti? Sì, assolutamente Però è un open bar braceria questa Per la pizza saliviamo Ci stiamo a tre Persi nel bosco ma il caffè non manca Ho fatto bene a fare questi dieci Bravo, vai Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira, tira Recupera Tira le ruote Tira, tira, tira Tira, tira A destra, starto a destra Così Oh Metto un attimo Come metto lì? Eh, che so Vai, vai, vai Vai, vai, vai Molla un po', molla, molla, molla Dai, dai, dai Dai, dai, dai Dai, dai Dai, dai, dai Dai, dai Dai, molla Dai, molla Molla Dai Stacca tutto che andiamo Vai, giù di nuovo Il cappello, eh Dai, dai, dai Aspetta, aspetta Aspetta Dai, dai 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 Il Massif Ma il Massif Ma il Massif Ma il Massif c'era le Maxis Dategli una spinta Ok, passato Fermo 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 Ferro Fermo 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 Romano Fermo Fermo ots Fermo üzere Bert Developpan Buon 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 buon, buon c'è il capo. Allora ragazzi buongiorno a tutti, secondo giorno qua a Frabosa, questi sentieri sembrano facili ma c'è un fango che ci sta dando un sacco di problemi, soprattutto perché ci sono anche tante gomme, tante macchine senza gomme, cioè con gomme diciamo stradali. comunque piano piano ne stiamo venendo fuori, ora la guida ha avuto un problema con una gomma siamo fermi, vediamo come va a finire, dai a dopo legata davanti, non riesco a togliere la ruota in nessuna maniera ha attrapato la barba, ha attrapato la barba, ha attrapato la barba, ha attrapato la barba oh ma sfiga questo giro poche un col fisso, no il fisso, il fisso non lo sai come colpo mi è ammazzata nei coglioni un cannello guarda è un'altra batteria per favore è stato il piede di Andre 40 minuti fa io 40 minuti fa vi ho detto mi mandate su 3 kg ha fatto tutto lui qualcuno che ha la schiena buona ma sono bastardi proprio cioè la mano di Dio è il piede di Andre ah no violento ci stavo pensando mollala chi vuole una mano lì? tutti è un po' anche sul disco venite direttamente qua vai su avrei un po' l'aiuto? eh no volevo dare un po' di piede dai Dattina ragazzi lui la c'entra e voglia la tirata su vai ok a posto vai vai metti i dati metti i dati metti i dati tira col mio licello scende non cambia però ci vuole andare vai lì di stetta vedi sorridi? ti prendi il camera Giancarlo il pezzettino di ferro e il cappuccio dai che è andata cercare da gonfiare un po' no stai più qua stai bom 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 punta l'albero piano piano non farla slittare bom bom sterza di nuovo sterza tutto piano piano chi è fermo? punta sempre l'albero punta sempre no no ma devi andare al minimo punta l'albero vengo su dai possiamo andare su l'albero ai via no ma il maxis non doveva passare di lì era l'altro il passaggio no 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 non fatelo passare lì eh dai vai piano piano così puntando l'albero vai piano aspetta vai ce lo deve dare lui grazie saci che spalca l'acqua bravo marco non troppo ora gira non farla slittare tranquillo adesso pulchisi senza farla slittare dacci 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 ok ok ma no ma no diciamo che è stato di parola è andato no? ma dai c'è guarda c'è un dito con il cuore pazzesca sta cosa fa vedere il telefono cos'è un iphone 15? c'è guarda c'è guarda non 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 Grazie a tutti Lascialo andare, lascialo andare Primino, no, non frenare Lascialo andare Bravo Togliti di lì Vai, vai, vieni, vieni C'hai ancora un metro Gira di qua Boom Boom Vabbè, puoi tirare ancora 30 citti Togli le mani Togli le mani già Qua sei salito anche dietro Oh, c'è un problema, raga Dimmi com'è davanti Aspetta Matti Guarda che indietro c'è tutto aperto Prendiamo la roma Posso andare in retro? Volevi raggiungermi a tutti i costi Matti Eh Vai, vai Addrizza le ruote 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 Dall'altra parte devi girare Perfetto Aspetta che ci metta un blocchettino Per ripartire dietro Solo dietro Addrizza, addrizza, addrizza Vieni 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 così, vieni così Dritto Blocca almeno dietro Vado Doppio allegro Doppio allegro Doppio allegro Attacca, piano così, piano così, vieni, attacca almeno dietro, attacca al blocco dietro, vai un pelo indietro, vai un pelo indietro, indietro, vai un pelo indietro, blocco dietro, un po' più, non troppo ma un po' di più, vai ancora indietro, vai vai vai, un po' più allegro, aspetta, scendi la telecamera, con calma adesso, vieni con calma, vieni dritto così, la dritta un po' in là, un po' in lì, vieni con calma, Vieni, 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 v Grazie a tutti Oh c'hai paura di sporcarla Hai paura di sporcarla Occhio che deve venire forte Togliti di lì Lollo Togli il tuo ladro non mi può smerdare E' una palude sta qua E' una palude sta qua Quindi sembra via 20 nell'ora di punta E' una palude 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 Va bene dai direi che siamo fuori Allora anche questa avventura è terminata Questa volta è stata proprio un'avventura Soprattutto il secondo giorno Il primo giorno è andato molto liscio Molto soft E il secondo giorno invece c'era un fango Che ci ha fatto scivolare di brutto E ci ha complicato le cose non poco Avrete visto nel video Un sacco di recuperi eccetera eccetera E niente Vi ricordo che dovete iscrivervi al canale Che è una cosa che a voi basta un click Non vi costa nulla E per noi è fondamentale per crescere Mettere like eccetera eccetera E ci vediamo nel prossimo video Che probabilmente sarà la via del sale Però non lo so Magari faremo anche qualcosa prima Ciao a tutti Ciao Ciao